Ciao ragazzi, eccoci qua, novembre, mese di promozioni e mese di Black Friday, seguitemi perché c'è una sorpresa per voi, vi faccio vedere, proposta outfit giubbino, keyway, orsetto, appena arrivato, bellissimo nel contrasto, disponibile in due varianti colori, lo abbiniamo a questo bellissimo jeans di PT Torino, blu denim, modello reg che tutti quanti conosciamo, bellissima la vestibilità, l'impuntura in contrasto, jeans molto sofisticato, lo coordiniamo con questa bellissima maglia, è un dolce vita, Manicara Glan RRD, con il beige laterale, bellissimo, disponibile in diversi varianti colori, lo abbiniamo a questo dolce vita e chiudiamo il tutto con una scarpa, la scarpa, la sneakers, la O3 MM50, bianca e suele, la promozione, se vi iscrivete subito, se accedete al link sottostante, cliccate e vi registrate, avrete un accesso anticipato ai saldi pre Black Friday, quindi affrettatevi perché ci sono delle promo speciali per voi, registratevi, maxboutique.shop, cliccate, ciao!